Cumuli di rifiuti lasciati per strada nei nove comuni del Consorzio Foggia 4. Più che un rischio, una concreta possibilità a cominciare da oggi, a seguito della decisione dell'Ager di ordinare ai nove comuni del Consorzio Cerignola, Stornala, Stornarella, Carapelle, Ortanova, Ordona, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia, di portare i rifiuti nella discarica di Massafra. Quella di Contrada, Forcone e Caffiero, di proprietà del Consorzio, di fatto resta chiusa perché è scaduta l'ordinanza regionale che consentiva da seco la gestione. Così ai sindaci dei nove comuni, questa volta tutti con la fascia tricolore indossata, a rappresentare il tono ancora più istituzionale del momento, non è rimasto altro che giocare nuovamente la carta dell'appello al presidente Emiliano. Rimasto inascoltato due giorni fa e chissà si è accolto adesso che l'emergenza ambientale, soprattutto senza trascurare quella sociale, ci sono 300 lavoratori di SIA a rischio, sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. La sala consigliare del comune di Trinitapoli, a distanza di 48 ore, torna ad essere il luogo scelto per lanciare un vero e proprio grido d'allarme, con il presidente del Consorzio Foggia 4 e sindaco di Cerignola, Franco Metta, che senza risparmiare una stoccata a Lager e al suo presidente Grandaliano, è sicuro che l'intervento del presidente Emiliano sarebbe decisivo per evitare che la situazione precipiti. Questa decisione ci ha preso di sorpresa, nessuno ci ha avvertito, da ieri nessuno ci ha risposto e allora la necessità di convocare la stampa e dare queste informazioni attraverso voi ai nostri 150-180 mila abitanti, nasce dall'esigenza di aprire un canale di trattative con la regione, con Lager. Devo dirvi, forse non lo sapete ancora, che lunedì mattina alle 10.30 il prefetto di Foggia ci ha convocato per ascoltarci e per essere anche lui tramite istituzionale alla ricerca di una soluzione che sia gradita a tutti, non ho finora notizie né dell'avvocato Grandaliano e nemmeno purtroppo del presidente Emiliano.